ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi voglio presentarvi tantissime tantissime novità un nuovo brand insomma dei filati meravigliosi che sono appena arrivati e che quindi ci tengo a farvi vedere anche in video a spiegarvi bene come sono composti i loro spessori farvi apprezzare notare bene i loro colori e quindi prima che vadano esauriti appunto ve li voglio consigliare ma soprattutto vi ricordo già che fino al 24 dicembre incluso 2019 abbiamo una promozione sul sulle spese di spedizione che pagherete soltanto un euro e 99 quindi ecco perché vi consiglio di approfittarne adesso pagate un euro e 99 per le spedizioni con corriere per ordini che vanno dai 25 ai 68 euro e 99 mentre rimangono gratuite da 69 euro d'ordine quindi adesso partiamo subito nel mostrarvi i prodotti e partiamo da questo nel particolare è il filato cool wool big 11 di lana grossa che è un brand nuovissimo per merceria italia artisan e abbiamo apprezzato tantissimo la qualità i colori di questo brand e abbiamo selezionato dei prodotti meravigliosi da portarvi queste che ex sono nello specifico in pura lana merino extra fine i colori lo vedete da voi sono veramente eccezionali al tatto risulta di una morbidezza e di un calore unici e vi vado a mostrare nel dettaglio appunto la composizione e i dettagli del filato stesso allora potete notare che come vi dicevo prima è un 100 per cento lana vergine merino il gomitolone contiene 200 grammi per ben 500 metri di filo è di medio spessore infatti la casa produttrice consiglia una lavorazione con ferri uncinetto che vanno da altre mezzo al 4 circa ed è veramente un qualcosa di indescrivibile dovete provarlo per capire la sua morbidezza e appunto anche la finezza del filato stesso perché addirittura un ovviamente filato rasato quindi non pizzica minimamente è adatto per grandi e piccini quindi possiamo pensare di utilizzarlo anche per i neonati talmente è delicato e fine allora i colori sono quattro al momento questo bellissimo che poi sfuma e va a diventare sempre più chiaro all'esterno fino a qualche pizzico di panna ed è molto bello e femminile poi abbiamo una versione adatta anche ai maschietti quindi perché non sacconanna una copertina ma anche per adulti quindi con questo bellissimo blu intenso all'interno e anche lui sempre nella stessa tonalità di colore va a sfumare fino a diventare sempre più chiaro all'esterno un altro colore neutro ma molto apprezzato è questo con il tortora guardate che bellezza abbiamo un tortora all'interno che va a sfumare fino a diventare un crema beige all'esterno è il quarto ed ultimo ma non per importanza bellissimo e classico anche lui è il grigio fumo all'interno grigio medio grigio chiaro e chiarissimo all'esterno queste sono le cakes cool wall big 11 di lana grossa continuando sempre col nuovissimo brand lana grossa abbiamo un must il gomitolo versione si chiama gomitolo ma è un gomitolone perché veramente gigantesco ha una metratura abbondante e generosa si tratta di un gomitolone da 200 grammi per ben 700 metri di filo quindi con un gomitolone andiamo a realizzare un bactus grande uno scialle insomma possiamo davvero sbizzarrirci con due possiamo andare a creare un maione un cardigan lungo tutto ciò che appunto desiderate indossare è caldissimo morbido e delicato anche lui ha un filato rasato quindi non non contiene mohair è un classico misto lana la sua composizione è 60 per cento lana vergine 40 per cento poliacrilico i colori sono meravigliosi e ve li vado a mostrare ad uno ad uno questo è il colore 410 che presenta tutte le sfumature del rosso magenta e bordeaux passiamo ad un'altra colorazione nello specifico la 412 guardate che bellezza di colori abbiamo dell'arancio del magenta dell'illa del giallo senape è spettacolare anche questa e vi dico già che comunque il numero di ferri uncinetti consigliati per la lavorazione di questo filato dalla casa produttrice va dal 4 e al 5 mm io vi consiglio un 4 4 e mezzo sicuramente di uncinetto per il suo spessore è un medio spessore quindi lo lavoriamo anche in fretta ma soprattutto non essendo comunque un bulki non risulta pesante alla fine il capo realizzato poi un altro colore che è un classicissimo è questo con le sfumature del grigio antracite grigio medio grigio chiaro è chiarissimo sono sfumature lunghe che si ripetono per tutto il gomitolone e ancora andiamo a prendere un altro colore meraviglioso è quello che io chiamo colore unicorno perché così l'hanno definito le mie bimbe e guardate che bellezza di colori abbiamo del rosa abbiamo del giallo sole ancora del celeste chiaro e del lilla melangiati benissimo insieme questo può essere utilizzato tranquillamente per grandi e piccine poi ultimo ma non per importanza un colore molto molto bello è perfetto per la stagione autunno inverno è un colore che una sfumatura che contiene del bordeaux dell'ottanio del verde menta del verde bottiglia e tutte le sfumature e le tonalità che ricordano un po il bosco quindi questi sono i cinque colori del nostro gomitolo versione disponibili sul sito poi un altro gomitolone praticamente uguale al versione ma i colori sono completamente diversi quindi altre sfumature è il gomitolo molto la composizione è sempre quella quindi 60 per cento lana vergine e 40 per cento poliacrilico ed ecco le sfumature bellissime che vado a presentarvi il colore 608 che presenta tutte le tonalità del beige del cammello tortora e grigio chiaro che risulta molto delicato quindi per chi ama le sfumature più tenue più neutre poi abbiamo questo bellissimo colore 604 con del blu del verde menta quindi i colori del mare un po per intenderci bellissimo anche lui ancora un colore molto autunnale tutte le sfumature del marrone del senape e del grigio chiaro grigio medio eccolo qui che è il colore 606 e ultimo ma non per importanza anzi la botta di colore di energia questo bellissimo arancio giallo e lilla un pochino di lilla per lo più troviamo l'arancio il l'arancio tendente al rosso è il giallo sole è un bellissimo colore anche lui e questi sono i quattro colori al momento disponibili per il gomitolo molto io vi consiglio di andare a vederli adesso sul sito uno perché sono tutti disponibili due per approfittare ancora una volta che ricordo della spedizione a 1 euro e 99 che è a scadenza a breve quindi pochi giorni ancora per poter approfittare di questa di questa promozione sulle spese di spedizione un filato eccezionale anche lui il gomitolo lucia sempre a marchio lana grossa guardate che meraviglia di colori e che brillantezza è un gomitolo multicolor quindi non ha sfumature lunghe ma sfumature corte che si ripetono per tutta la cake da 100 grammi di filato è morbidissimo anche lui presenta questo lurex effetto pagliuzza che la non si sente proprio al tatto non da minimamente fastidio ma da un sacco di luce allora vi presento i quattro colori al momento disponibili questo molto autunnale molto bello con questo lurex pagliuzza color argento che il colore andiamo a vedere subito 201 la composizione di questo filo è 50 per cento poliacrilico 40 per cento lana vergine merino 9 per cento poliamide un per cento poliestere che sarebbe il nostro lurex effetto pagliuzza il peso è 100 grammi la il metraggio è 280 metri sono veramente molto belle morbide e elegantissime e questo è il primo dei quattro colori poi un colore decisamente più energico è questo guardate con tutte le sfumature del viola del rosa del color ruggine è il lurex al suo interno è un po dorato un po argento ma risulta talmente tanto elegante che è visibile luminoso ma allo stesso tempo discreto la composizione ovviamente è sempre la stessa e questo nello specifico il colore 206 vi dico anche che i ferri uncinetto consigliati dalla casa produttrice vanno dal 4 al 4 e mezzo quindi anche lui un medio spessore ancora un altro colore meraviglioso con le sfumature del verde blu stavolta ovviamente prevale vedrete dal dal video il verde in tutte le sue tonalità e ha qualche sprazzo di blu anche questo è il colore andiamo a vedere subito 208 poi ultimo ma non per importanza è ipnotico questo blu è un blu intenso tendente al violaceo anche del color ruggine all'interno e del blu elettrico è meraviglioso come colore anche lui ed è un il numero 207 questi sono dunque i quattro colori del gomitolo lucia sempre brand lana grossa ancora lana grossa ancora un filato eccezionale lui è magico 2 è un filato a sfumature lunghe sono gomitoli da 100 grammi ed è un filato di spessore più sottile rispetto a quelli che vi ho mostrato finora è un filato che va benissimo per i punti operati punti il rilievo punti 3d soprattutto all'uncinetto perché grazie al suo spessore appunto più fine rimane leggerissimo il capo lavorato seppur fatto con appunto dei dei punti tridimensionali si tratta di un filato comunque caldissimo perché composto al 75 per cento di lana vergine merino è dal 25 per cento di poliamide è un filato morbido caldissimo e le sfumature sono meravigliose uniche a mio avviso questa nello specifico che è la il colore 35 61 è una sfumatura bellissima molto autunnale che presenta tutte le tonalità del marrone del viola vinaccia del bordeaux questo rosa cipria che va diventando sempre più scuro insomma dei colori stupendi è un gomitolo pesa 100 grammi e contiene ben 420 metri di filo quindi veramente molto abbondante come metraggio e con due gomitoli possiamo già pensare di sviluppare una maglia di taglia sm ad esempio la casa produttrice consiglia l'utilizzo di ferri 3 millimetri circa il suo spessore come vi dicevo appunto è per questo un tantino più sottile rispetto agli altri e appunto per questo sviluppa un bel metraggio decisamente un altro colore che vi vado a presentare altrettanto bello e particolare è il codice 35 63 che ha al suo interno dell'ottanio dell'illa del grigio fumo e anche del magenta scuro quasi violetto eccolo qui stesse caratteristiche stessa meraviglia di di composizione quindi 75 per cento lana vergine merino terzo ed ultimo colore ma non per importanza sicuramente è questo delicatissimo con le sfumature del giallo scuro ancora del grigio grigio medio che poi si melangia e diventa più scuro anche del color beige che diventa sempre più chiaro quindi dalla tonalità più scura alla più chiara dello stesso insomma se anche lui è un colore neutro ma con un pizzico di giallo che appunto fa risaltare la particolarità della sfumatura questo filato va benissimo per la realizzazione di capi d'abbigliamento per degli scialli delle stole ma anche per delle calze ad esempio per chi ama lavorare le calze ai ferri è l'ideale perché essendo un filato leggero verrà appunto verrà appunto un risultato fine ma molto caldo per la composizione del filato stesso lui vi ricordo è magico 2 sempre a marchio lana grossa abbiamo avuto anche delle novità a marchio scipis che vado a presentarvi nello specifico questa meravigliosa pelliccia eco pelliccia quindi pelliccetta sintetica morbidissima spettacolare al tatto che si chiama furri tails è una novità scipis proprio cita un paio di settimane fa credo e abbiamo subito voluto provarla e portarvela sul nostro sito tratta di gomitoli da 100 grammi per 57 metri è un filato dallo spessore bulki in 100 per cento poliestere è morbidissimo e viene consigliata una lavorazione con ferri di circa 9 mm io vi dico da 8 a 9 mm circa nello specifico abbiamo dei colori con delle punte di bianco che vanno a riprendere un po l'aspetto naturale della pelliccia ovviamente si tratta ripeto sempre di pelliccia sintetica è l'effetto finale quello che viene apprezzato nella particolarmente nei colori appunto con queste punte di bianco quindi screziati ecco non sono dei tinta unita ma ci sono anche due versioni tinta unita che adesso vi vado a mostrare questa nello specifico che da una di voi mi è stata segnalata un po come volpe argentata per intenderci come colore questa è il colore 981 poi abbiamo un grigio chiaro sempre con le punte di bianco bellissima anche questa tonalità di colore che è la numero 979 ancora classico è il marrone puntellato sempre di bianco guardate che meraviglia questo è il colore 973 poi abbiamo del rosa quindi per chi ama i colori particolarmente femminili o per le nostre bimbe perché un filato così morbido e delicato che va benissimo anche per loro e questa è la sfumatura di colore 974 poi abbiamo ancora del blu sempre puntellato di bianco guardate che bella e questo è il colore 977 i due colori tinta unita classicissimi invece seppur con la stessa composizione stessa morbidezza e calore sono il nero corvino che sicuramente in camera rende poco per via del colore stesso ma io spero di farvelo apprezzare magari così per farvi capire quanto è folta e morbida questa pelliccetta e tra l'altro hanno lisi start quindi ogni gomito lo può iniziare tranquillamente dall'interno e potete lavorarlo senza che si srotoli guardate lui va tranquillamente a srotolarsi dall'interno senza che il nostro gomito li rotoli per tutta casa durante la lavorazione quindi questo nero corvino è il colore 980 poi abbiamo un bianconeve veramente candido e meraviglioso anche lui un classico eccolo qui anche lui ha il suo easy start come tutti tra l'altro ed è il colore 970 io vi consiglio di provare questa pelliccetta perché ve ne innamorerete sicuramente potete andare a realizzarci capi d'abbigliamento anche accessori da indossare come delle cappe dei ponci ma perché no anche delle coperte e dei copricuscini se vorrete ad esempio realizzare qualcosa per arredare la vostra casa ultimo filato ma non per importanza anzi forse il più mastodontico di tutti sempre a marchio scipis sempre una novità si chiama anna questo filato è in gomitoloni da 350 grammi come notate non entra nemmeno nell'inquadratura della mia camera è un filato bucle quindi effetto blu bucle guardate è leggermente riccio come filato particolarissimo un medio spessore viene consigliata la lavorazione con ferri e uncinetto che vanno dal 6 dal 5 scusate al 6 mm circa poi abbiamo una composizione in 88 per cento poliacrilico e 12 per cento poliestere è un filato morbido è un filato che risulta caldo e con un solo gomitolone potete andare a sviluppare ovviamente un progettino come un cardigan lungo tipo cappottino insomma dei maioni tutto quello che volete perché comunque contiene ben 875 metri di filo circa poi i colori sono tre questo bellissimo con del bordovinaccia e del verde oliva quindi molto autunnale un altro colore autunnale è questo allora questo qui è il colore 19 poi abbiamo il colore 25 che è questo con il marrone il color quasi salmone del ruggine bello 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 anche lui molto particolare e caldo come colore ed ultimo ma non per importanza anzi bellissimo anche lui è questo colore con le sfumature del fucsia e del vinaccia quindi questo viola con qualche punta di nero anche che si melangia e si mescola anche lui ha delle sfumature lunghe quindi si ripetono per tutto il gomitolone gigantesco quindi con una panoramica su questi meravigliosi nuovi arrivi io vi invito ad andarli a visionare sul sito adesso che sono ancora disponibili sono giusto arrivati ieri è qualcosa sta già andando via quindi vi consiglio di andare a sbirciare e di approfittarne adesso perché ragazze le spese di spedizione ad un euro e 99 credo siano abbastanza allettanti per permetterci di provare qualche prodotto poi ricordatevi che da 69 euro d'ordine sono completamente gratuite invece quindi vi ringrazio ancora per aver seguito questo mio video vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao a tutti